cari amici di mille un'avventura purtroppo questa settimana i tempi sono ristretti e quindi ciò che avevo pensato di fare per le per i due ultimi video eccolo sto buttando un po lì però mi sembra anche utile tentare di mantenere una certa frequenza con questi video sul canale perché vedo che in effetti alcuni iscritti apprezzano quello che stiamo proponendo perciò dico quello che avrei fatto che in realtà non sono riuscito a fare materialmente però magari potreste voi stessi andarvelo a vedere perché vedo che ci sono molti iscritti interessati a questo particolare argomento di cosa sto parlando ecco vi ricordate che uno dei video anzi alcuni dei video più seguiti del canale sono i video in cui si spiega come diventare vtuber in particolare come avere un personaggio che si presenta nel video e che segue i movimenti mentre parla del dello youtuber del vtuber che si propone perciò non si compare in video di persona ma c'è un avatar che rappresenta in quel momento un particolare personaggio questi video a quanto pare riscuotono un po di successo loro ho pensato di portarne un altro in cui mostrerò questo deep motion che cos'è deep motion ho visto l'annuncio e mi è sembrato proprio che facesse al caso nostro è un particolare software che vede un video che va a leggere un video e lo trasforma in un'animazione ovviamente ha un costo e diciamo che se non pagate nulla avete a disposizione solo questo animate 3d che adesso andiamo brevemente a vedere di cosa si tratta però ripeto non ho ancora provato come funziona sicuramente lo proverò appena avrò un po di tempo però vedete che ci sono tante altre cose qui sotto per esempio body tracking sdk trasformare proprio il movimento di alcuni personaggi in un'animazione oppure vr tracking sdk bisogna contattare l'ufficio vendite e anche questo physics engine sdk cioè per avere accesso all sdk cioè al alla serie di funzioni codice che realizzano tutto questo bisogna chiedere a chi vende questa roba qui però anime 3d fino a un certo punto è accessibile gratuitamente io mi sono registrato ho creato un account gratuito e cliccando qui scoprite quello che si può fare che cosa succede in pratica bisogna proporre fornire un video di input che non deve essere secondo quello che dicono qui queste sono le linee guida non devono essere personaggi dei cartoni animati non bisogna avere dei vestiti troppo ampi che non fanno capire bene com'è la forma del corpo nel video che state proponendo e non ci devono essere più persone quindi immaginate di fornire a questo software un'immagine di qualcuno che si muove che sia una persona reale che abbia vestiti attillati e che sia solo in questo video ecco in pratica si fornisce questo video dopo di che non ci devono essere oggetti non avevo notato che c'erano altre cose c'è tutta una serie di richieste non ci devono essere oggetti che coprono parte del del corpo non bisogna avere dei vestiti a tinta unita si vede che confonde il sistema poi ecco questo invece è consentito potete presentarvi in costume da bagno dell'ottocento vedete ecco il soggetto umano deve essere pienamente visibile si devono vedere le giunture e ci deve essere un buon contrasto con lo sfondo ecco qui il problema è che il vestito è nero e lo sfondo è un grigio scuro quindi queste sono consentite poi quest'ultima cosa la camera si deve trovare questa ripresa deve essere fatta a tra 6 e 20 piedi dal soggetto che appunto deve avere questi vestiti ben attillati senza occlusion non so cosa sia l'occlusion però immagino che abbia a che fare con l'occlusion e quindi qui c'è un refuso il che mi lascia un po' perplesso su un sito del genere fare un errore di battitura comunque speriamo che i software invece lo sappiano scrivere bene quindi andiamo avanti quindi voi avete il vostro bel video pronto e lo scaricate qui e bisogna specificare probabilmente questi limiti che vedete sono impostazioni ecco vedete gratuitamente il video non può superare i 20 secondi e anche per il piano starter invece se avete pagato di più adesso non sto a vedere i costi ve li andate a vedere voi se siete interessati potete addirittura proporre video di 6 minuti e poi le dimensioni anche qui non possiamo superare i 100 mega quando la usiamo gratuitamente la risoluzione deve essere full hd gli fps al massimo 30 fps quindi deve essere un video fatto in un certo modo e andiamo avanti non so ecco qui vorrebbe che mettessimo il video qui ma non ce l'ho pronto quindi non posso farvi vedere dovevo andarmene a selezionare uno poi sicuramente ci sono dei video di tutorial eccoli qua che fanno vedere tutto il procedimento comunque andando avanti si va poi a inserire il modello tridimensionale che volete sostituire all'immagine del soggetto che si muove e quello ripreso effettivamente e anche qui delle caratteristiche supportano il face tracking e anche l'hand tracking quindi una cosa assolutamente incredibile dopo di che eccolo lì ottenete dalla l'animazione 3d o la posa 3d che il soggetto aveva quindi voi in pratica mettendo il video ottenete andiamo a vedere il tutorial così si capisce ecco qui ci sono vari tutorial e che vi andrete a vedere se volete qui usa l'unreal engine 5 e qui stiamo vedendo la pubblicità non c'entra nulla ecco vedete lì c'è un filmato un filmato con questo personaggio che si muove e si riesce a ottenere dal video la posa del modello tridimensionale o addirittura il movimento quindi ci sono tutti i tutorial potete andarli a vedere e come notate c'è anche il face tracking che è quella tecnica che abbiamo visto nel video precedente che usiamo per animare il nostro modello da vtuber quindi provate andarvi a vedere se siete interessati a questo tipo di applicazioni questo animate 3d purtroppo ci sono i limiti se non pagate quello che vogliono loro ci sono dei limiti però in effetti per provare in modo amatoriale queste tecniche avanzate di animazione vedete che non c'è stato bisogno in questo video di di avere quei modelli praticamente non c'è stato bisogno di avere quei modelli o meglio sul proprio corpo tutti dei segni che fanno capire alla camera al software come si sta muovendo il personaggio quindi può desumere dal video il movimento del personaggio entro certi limiti ovviamente anche senza tutti i pallini tutti i puntini che una volta invece erano assolutamente richiesti per applicazioni di questo genere e altre cose che non sono necessari appunto avete visto insomma è tutto ci sono delle richieste ma non sono così stringenti e cercherò se riesco nelle prossime settimane a provarlo effettivamente queste tecniche vediamo se riesco a recuperarlo erano state usate ai primordi dei videogiochi in due dimensioni grafici da prince of persia per esempio vediamo se lo troviamo originale 1989 andiamo a vedere le immagini eccolo qui vediamo se riesco a ingrandirlo ma prendiamo questo qua non è proprio questo che volevo apriamo questo qui ecco vedete conoscerete questo gioco del 1989 i primi anni 90 sicuramente chi c'era l'avrà provato e vedete questi personaggi in grafica beat map come li aveva realizzati mechner come è che si chiamava jordan mechner come li aveva realizzati aveva preso delle foto del fratello che faceva determinati movimenti ed era molto bello vedere la salita sul piano superiore il salto al piano inferiore ed erano tutti tutte beat map desunte da fotografie del fratello di jordan mechner che aveva realizzato questa cosa ecco adesso invece grazie a strumenti come deep motion vedete che si può realizzare la stessa cosa ma è il software che vi fa tutti i calcoli e vi produce addirittura un modello tridimensionale che potete importare in unreal in unity in qualsiasi motore tridimensionale per creare videogiochi vi possa venire in mente bene purtroppo non vi ho fatto vedere nulla se non dei tutorial già pronti che potevate andarvi a vedere voi stessi comunque mi piaceva parlare di questo argomento e ci torneremo probabilmente più avanti a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in uno dei prossimi video in una prossima diretta ciao a tutti